Nooo! Difendere! Difendere! Soppi è attaccato! Guarda lui che forte! Stai verso! Guarda lui che forte! Soppi attaccati! Io, Piero, Matto, Finus, Lo Sclero, Verna... Io ho sentito che c'era una... Canja Boys era dopo, no? Dimmi... Dimmi allora l'esatta timeline dell'evento che io vado a fare. Curiosità mi è rimasta di capire come cazzo è successo. La fonte nel 93, il primo torneo Paganello, che abbiamo mercato con i cosi, con un bistone dei riminesi che era da Bologna, che era da Bologna. Così è stato il primo torneo Paganello. Perché la squadra di Rimini già esisteva. Esatto. Però è stato... Cioè... C'erano tre che hanno messo un gol da fonte. Io sono arrivato nel settembre. C'erano! E' unico! C'erano! 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 È unico! C'erano! C'erano! Siamo! 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 Marta!!! Benevito! Chetta l'Italia!